Il sogno di avere un figlio si realizza anche con l'aiuto della scienza e della medicina. All'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù si registrano le prime gravidanze tramite fecondazione eterologa. Al centro di procreazione medicalmente assistita di ASS Tilariana, le coppie che hanno difficoltà a diventare genitori possono accedere a questo tipo di procedura. A differenza dell'omologa, in cui si usano i gametti della coppia, la fecondazione eterologa richiede infatti l'utilizzo di spermatozoi e o ovociti di donatori terzi. Per la richiesta dei gametti da donatori, il Sant'Antonio Abate è convenzionato con la Banca Lombarda dei Gametti che ha sede a Milano all'ospedale Niguarda. Per intraprendere questo percorso abbiamo fissato i primi appuntamenti la scorsa estate, spiega Marco Claudio Bianchi, responsabile del centro, coadiuvato da Alessio Paffoni che coordina il laboratorio della PMA. Dopo un adeguato iter diagnostico e di consulenza, in queste settimane abbiamo effettuato le prime procedure di scongelamento dei gametti donati per eterologa e riscontrato le prime gravidanze. Fin dall'apertura avvenuta nel 1997, il centro PMA si è prefissato lo scopo di creare, in una struttura ospedaliera pubblica, un servizio che garantisse alle coppie che non riescono naturalmente a intraprendere una gravidanza di essere seguite nel complesso iter diagnostico e terapeutico con un adeguato standard assistenziale e soprattutto con una profonda umanizzazione nell'approccio alla tematica dell'infertilità. Al centro, infatti, le coppie che chiedono di poter intraprendere il percorso di fecondazione assistita incontrano ginecologi, genetisti, biologi, andrologi e psicologi, così che sia possibile avere un quadro completo su cosa significhi per il loro futuro accettare la donazione dei gameti. Le condizioni che portano una coppia a tentare di avere un figlio con la fecondazione eterologa, spiega il dottor Bianchi, sono molteplici sia per quanto riguarda la donna che per quanto riguarda l'uomo.